Dante Terzine from the world Oggi andiamo in Portogallo con Hui Cojas, poeta che scrive anche sulla prestigiosa rivista Versville Quando era giovane, alla prestigiosa Università di Coimbra, durante gli esami Gli studenti scrivevano sopra l'aula dove questo particolarmente severo professore teneva gli esami Lasciate ogni speranza voi che entrate Vi lascio alla lettura delle terzine dantesche da parte di Hui Cojas Ciao, mio nome è Rui Cojas, da Portugale, Lisbona Voglio expressare le mie grazie a la Casa di Poesia di Como, Italia For this kind invitation and express my deepest congratulations for this magnificent event On Dante Alighieri, La Divina Commedia, a work that is part of the idea and construction of Our civilization, our Europe and all the human heritage I'm going to read in Portuguese A Terceto taken from Inferno, La Divina Commedia And the Terceto is taken from the Canto 3 I'm going to read in Portuguese and then I'm going to try to read in my, in the original language I'm going to read in the comments situation I'm going to learn to Booin' ces biologishi Lacciate ogni speranza, voi che entrate Thank you